Sì, sì, vai. Allora, io parto dalla partita di ieri sera, non dal mercato, le chiedo intanto che impressione ha avuto sulla Robur di ieri, al delà della vittoria, che ovviamente lo abbiamo sottolineato, insomma è il primo debutto vincente della Robur dalla rifondazione in poi, perché aveva sempre pareggiato nei precedenti esordi, però al delà di questo si è visto un Siena che ha saputo mettere sotto la lucchese, soprattutto nella ripresa. Sì, la sua analisi è stata sintetica, ma direi precisa. Innanzitutto la cosa importante era iniziare a coprire giusto, perché aiuta a creare morale, a far lavorare meglio i ragazzi del ministero, avvicinare anche gli spettatori allo stadio e sicuramente sembra che fossero un po' contratti, perché l'esodio di sera, in derby, queste gare evocano comunque, gare di diverso livello, e proprio piano piano ci siamo sciolti ed è una ripresa dal gol in poi, la squadra ha dimostrato di tenere il campo con grande maestria e ha fatto una ripresa sicuramente di grande valore, ma globalmente posso dire che questa è una partita dove la Robur ha meritato tre punti, anzi, forse con un pizzico più di freddezza in zona gol avremmo magari finito con un stato diverso. Allora, ovviamente l'abbiamo chiamata anche per parlare di mercato, però lascio la parola a Giuseppe Ingrosso, che insomma ha seguito il calcio di mercato bianco-nero, oltre a tutte le vicende in questa estate, Giuseppe se vuoi fare delle domande al direttore. Ma sì, allora intanto, visto anche la partita di ieri, chiedo al direttore quali sono i punti in cui il Siena interverrà, se ne ha già parlato anche per il direttore stesso, però insomma quali sono i punti chiave dove intervenire in queste ultime frenetiche ore di mercato e se ci sono novità dell'ultima ora. Ciao a Giuseppe, come sai ci siamo sentiti un sacco di volte, quindi probabilmente sei uno degli interlocutori più, come posso dire, che hanno sicuramente il posto della stazione in mano. Allora, come ci siamo diti in questi ultimi tempi, siamo arrivati a fine mercato con la rosa comunque fatta per un buon 80-85%, oggi se avremo l'opportunità saremo vigi, cercheremo un giocatore offensivo con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, un giocatore che possa darci magari qualcosa di più sotto il profilo del cambio di passo, del cambio di marcia. Andremo, se riusciamo, abbiamo già individuato un centrocampizio centrale under che possa dare un cambio a Cruciani o essere un'alternativa e poi se qualcuno vuole andare via la valuteremo e ci sarà qualche altra opportunità, la prenderemo in esame. Però diciamo che andiamo al mercato con le direzioni fosse chiare. Ecco, nelle ultime ore si è fatto il nome di Doninelli verso Monopoli. C'è del vero oppure la situazione per il giocatore bianconero è ancora ferma? Ah, già c'è stato. E naturalmente auspichiamo che il ragazzo vada perché ha bisogno di giocare con continuità, cosa che naturalmente in prima parte di stagione non è stata qui da noi. Quindi per evitare che stia magari margini è necessario che trovi una soluzione. Questo che in questo momento, ma si spera torni presto e tornerà presto Michel Cruciani, un obiettivo magari chiave è trovare un sostituto di Cruciani che possa fare vice Cruciani e magari liberare a volte Damian che ha fatto benissimo nel momento in cui si è trovato da mezzala ieri contro la Lucchese. Premesso che comunque si è calato benissimo nel ruolo. Certo, per quello che ti ho detto poc'anti, che le due cose che abbiamo intenzione di fare, se riusciamo sono un giocatore offensivo che possa avere cambi di passo e avere qualità diverse e un centro campi centrale basso che possa essere giù under, che possa essere un'alternativa a Cruciani. Assolutamente sì. Abbiamo qualche idea e cercheremo di portare a casa quello che riteniamo anche più compacente del nostro modo di fare calcio. Ecco direttore, adesso è in corso in questi minuti proprio Olbia Pisa. Pisa prossimo avversario, lo sappiamo, della Robur. Ci sono già due scontri praticamente diretti, insomma scontri molto importanti. Pisa alla seconda giornata e poi fra circa un mese l'Alessandria. Insomma per il Siena non è certo una partenza facile in calendario. Che cosa si attende lei dal primo esame di maturità, diciamo così, della Robur di domenica sera a Pisa? Mentre tutto non vediamo l'ora di andare a giocare la partita a Pisa. La mentalità deve essere questa, di essere sempre positivi, positivi. In Pisa sappiamo che è una squadra non forte, fortissima, costruita per vincere il campionato per distacco. E noi andremo là cercando di fare la migliore gara possibile, sempre con la determinazione che siamo un gruppo solido e compatto che deve cercare di far bene in tutte le partite. Quindi io francamente non vedo modo di andare a giocare a Pisa domenica, anche perché una sfida serale, un derby, comunque un derby, dove avremo di fronte magari un pubblico delle grandi occasioni, credo che è la partita che tutti vorranno giocare. Ringraziamo il direttore sportivo Giovanni Dolci che da domani sarà a Milano per chiudere, insomma lì, il fulcro come sappiamo del calciomercato, per chiudere il mercato bianconero. Un grazie e ovviamente buon lavoro a Giovanni Dolci. Grazie a voi e buona serata. Perfetto, allora possiamo, ovviamente abbiamo congedato il direttore Dolci, torniamo a parlare di Siena Lucchese perché ci sono ancora alcuni contributi da proporvi, appunto a partire dalle parole dell'autore del gol decisivo e per ora anche l'unico ad aver segnato in competizioni ufficiali per la Robur, ovvero Alessio Cristiani. Si poteva partire nel migliore dei modi. Non c'è una Supercoppa? No, sono contento, sono contento per questo inizio di campionato, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, siamo partiti bene, abbiamo fatto 20 minuti secondo me abbastanza bene, poi siamo stati bravi nel soffrire perché negli ultimi 15 minuti del primo tempo abbiamo un po' sofferto, però poi il secondo tempo secondo me è stato un secondo tempo esemplare, sia dal punto di vista della qualità, della personalità, della cattiveria, tutti i punti di vista e secondo me abbiamo meritato la vittoria. Sì, sì, sono dei concetti che il mister ci chiede durante l'allenamento, abbiamo fatto superiorità sull'esterno, due contro uno, poi la palla è stata messa benissimo in mezzo e l'altra mezz'anno è andata senza rito e ho fatto gol. La mia dote è l'inserimento, quindi è una caratteristica che io ho, quindi io il tiro da fuori da 30 metri non ce l'ho, sinceramente, la mia dote è quella e cerco di sfruttarla nel migliore dei modi, ma è normale che quando fai gol il morale va a mille, però secondo me la differenza che c'è stata dal primo e dal secondo tempo, che al primo tempo eravamo un po' sulle gambe, a livello personale dico, invece nel secondo tempo stavamo meglio, quindi ci riusciva meglio, ci arrivavamo sempre prima dell'avversario e secondo me questa è stata un po' la differenza. Quando arrivi al novantesimo sull'1-0 e non riesci a raddoppiare, a mettere la partita in sicurezza, poi può capitare qualsiasi cosa che può prendere gol e secondo me l'unica cosa che ci è mancata oggi è stato quello, di chiudere la partita il prima possibile. Per me deve essere una partita come quell'altra, la devo preparare come ho preparato questa di oggi, non devo sentire talmente tanta tensione, se no poi arrivo alla partita a scarico, quindi la gestirò come tutte le altre partite. Allora, un Toscano di Livorno che decide il derby tra Sian e Lucchese, tra l'altro domenica, il Livornese contro Pisa. Al di là di questo, Giuseppe, quello che è interessante di ciò che ha detto Cristiano, il mio forte è l'inserimento, lo sappiamo, non sono i tiri da 30 metri. Questo ci dà un po' anche il là per parlare forse di ciò che è andato un po' meno nel Siena ieri, perlomeno a mio parere, perché troppo spesso forse i bianconeri hanno cercato il tiro dalla distanza, Marotta in due occasioni, una volta è anche andato vicino, per la verità il gol, Bulevardi da fuori, quasi sempre insomma succede che poi il portiere non ha troppa difficoltà a parare, e lì deve essere ovviamente il portiere a sbagliare. E allora forse è lì che ancora si deve oliare il meccanismo, secondo te? Sì, sì, è lì che si deve oliare il meccanismo, ma anche perché il trequartista rimane, anche se è andato a buon fine il primo esperimento con la Lucchese, rimane il ruolo più delicato, secondo me, dopo quello del playmaker. Quindi io mi auguro che Cruciani riesca a recuperare per la partita col Pisa. Sia Cruciani che Vassallo non hanno il tiro da fuori come loro caratteristica. Ce l'ha Marotta, lo abbiamo visto, ha tirato un po' troppe volte, o ce l'ha, ci prova Iapichino, che spesso ha tentato la conclusione da fuori, però è una pecca che manca in questo momento, e io credo il trequartista deve avere rapidità di gioco, quindi trovare inserimenti per gli attaccanti e anche il tiro da fuori. Quindi in questo caso Bellingheri sarebbe il ben accetto, e io spero che la trattativa arrivi per il momento, sembra ci sia l'accordo con la Cremonese, e vediamo, c'è da convincere il giocatore, comunque forse c'è la possibilità di arrivare per Bellingheri, è un giocatore che è dell'83, quindi ha 34 anni, però anche con i cinque cambi te lo puoi giocare anche l'ultima mezz'ora senza problemi. E tra l'altro ovviamente sarebbe anche un ritorno, perché Bellingheri ha già giocato a Siena molti anni fa, a proposito di Lucchese, ieri tra l'altro la squadra di Lopez ha fatto quattro cambi se non sbaglio, anche se poi in tre momenti distinti quindi aveva finito i cambi, però è arrivata dobbiamo dire a Siena con tantissime defezioni, perché c'erano cinque indisponibili, di cui tre potenziali titolari, tanto che Lopez alla vigilia aveva detto vedremo la vera Lucchese solo tra 4-5 settimane. Prima di parlare così delle defezioni della Lucchese andiamo a sentirci il loro capitano, argentino, veterano della Lucchese, settima stagione con i rossoneri, Marcos Especie, ce lo sentiamo nel post partita. Eh sì, effettivamente, abbiamo fatto secondo me un primo tempo all'altezza, all'altezza, lo sapevamo, avevamo lavorato per questo, e come dici te, secondo tempo ci è mancato qualcosa, abbiamo concesso, abbiamo concesso qualcosa a una squadra che ha dei valori singoli importanti, che alla minima occasione ti fanno male, abbiamo sbagliato, abbiamo pagato, però bisogna ripartire da tutto quello che di buono abbiamo fatto, perché siamo alla prima giornata, ed è presto ancora per fare certi bilanci, bisogna lavorare e abbiamo soltanto da crescere. No, è vero che siamo all'inizio, però ha dei valori singoli importantissimi, che se riescono a mettere insieme tutte le loro qualità, sicuramente possono fare un campionato di vertice, perché si è visto il valore dei suoi giocatori, e si sa, si sa, che è una squadra costruita per vincere, o per fare bene. Una squadra costruita per fare bene, insomma si riferiva al Siena e specie, per la verità la Lucchese alla vigilia, se proprio vogliamo guardare la carta, forse era la squadra che veniva da, come dire, un background migliore rispetto al Siena, perché l'anno scorso, ricordiamo, contro ogni pronostico quasi, però arrivò fino ai quarti di finale playoff, si fermò solamente contro il Parma, che poi avrebbe conquistato l'ultimo posto in Serie B. Che Lucchese hai visto Giuseppe, e quanto secondo te quelle tante assenze che abbiamo parlato hanno influito poi su quello che abbiamo visto noi? Ma secondo me tantissime hanno influito, ma non solo le assenze, si parla di giocatori, uno è Tavanti che avrebbe giocato al posto di specie, che si è adattato in fascia, e questo già la dice lunga. Poi ci sono Nolè, c'era Fanucchi, c'era Cecchini, che vinse il campionato col Teramo, insieme a Masullo, quindi insomma erano tanti, ma soprattutto è anche la forma fisica di chi li ha sostituiti, perché Del Sante e Devena non erano assolutamente in forma, lo stesso Del Sante è entrato nel secondo tempo perché non aveva più di 45 minuti nelle gambe, quindi è una Lucchese rimaneggiata, il Sena è andato anche a bene, lo possiamo dire, a affrontarlo adesso, però credo che sia difficile che possa ripetersi, perché il budget si è ridotto, l'anno scorso ha fatto il miracolo, però se ne sono andati diversi giocatori, 3-4 sono andati in Serie B, uno è De Feu, un altro è Dermaco che è andato all'Empoli, Nobile, che gioca sempre in Serie B, fa il primo portiere, Brucini, che ha finito il Cosenza, però l'ha corteggiato il Pisa fino a poche settimane fa, quindi è una Lucchese che ha perso pezzi, ne ha preso giovani interessanti come Baroni, figlio di Marco, ex allenatore del Siena, adesso allena al Benevento, però... Presente ieri tra l'altro allo stadio, presente ieri allo stadio Marco Baroni, però non credo possa ripetersi, io me lo auguro ovviamente che sia una posizione sotto al Siena, però difficile ripetersi, ecco. Allora, vedremo poi se sarà così o meno, mentre rivediamo di nuovo le azioni, questa è l'occasione per Arrigoni, forse la più nitida, con Arrigoni che ha un po' strozzato il suo destro davanti a Pane, e allora abbiamo detto della soddisfazione ovviamente del Siena, soddisfazione espressa anche dalla Presidente Anna Durio nel post-gara, andiamo a sentire le sue parole. Innanzitutto volevo ringraziare i tifosi, abbiamo superato i 1800 abbonati e quindi sono più che soddisfatta della cosa. Sono contentissima chiaramente per la vittoria odierna, si è vista una bella partita, oserei dire, è un gran tifo, per cui sono contenta, oltre che emozionata. Probabilmente se iniziavo stasera la faccia o la metto io, parlavo più spigliata, ma non ci riesco. Io devo dire che ero molto fiduciosa, perché comunque ci credevamo tutti e l'impegno si è visto tutto, quindi direi che sono soddisfatta. Nell'insieme io non ho mai avuto grossi problemi a Siena, devo dire, ci sono state delle contestazioni più che giustificate, ma poi per il resto non mi ha mai inseguito nessuno, via Siena, io mi sono sempre trovata bene. Partiamo dal presupposto che il campo non è il mio forte, quindi dobbiamo incontrare delle squadre, le dobbiamo incontrare a me tutte e comunque spero domenica di ripetere una bella partita. Allora, questa era la Presidente Ana Duglio appena sfiorata l'argomento abbonamenti, perché poi ieri tra le altre cose è arrivato anche il dato finale definitivo sugli abbonamenti alla Siena in questa stagione, sono 1869 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi, un dato che insomma lo confrontiamo con gli anni precedenti, non è molto positivo per la verità, perché 3866 in serie D ormai tre anni fa, 3470 il primo anno di Lega Pro, 2135 il secondo anno, ovvero l'anno scorso, è lì poi che c'è stato il grande gap, però insomma Giuseppe, il dato è che in due anni, anzi in tre anni, Siena, la Robur, ha perso 2000 abbonati. Sì, questo è un dato che ci si poteva benissimo aspettare, bastava vedere il calo di presenza e di affluenza dell'anno scorso. In serie D c'è anche il fatto della rinascita, della voglia di riemergere e poi anche il fatto che non era presente la tessera del tifoso. E questo è un fatto su cui insistere, perché pare la vogliono abrogare e oltretutto ieri si sono rivisti tamburi e megafoni. Questo ha aumentato un po' il clima più suggestivo e caloroso. Io credo sia comunque un buon numero, perché oltre 1800 abbonati, intanto comparandolo con le altre piazze, se togli piazze come il Pisa, comunque il Piacenza non è andato sopra 800 abbonati e qui ha un bacino all'utenza ben più grande. Quindi paragonandolo è comunque un risultato soddisfacente, tutto sommato considerando anche i due anni di calcio deprimente a cui i tifosi hanno assistito e la metà delle sconfitte sono arrivate in casa l'anno scorso, è un dato più che buono su cui ripartire. Io preferisco così partire con 1800 abbonati e finire magari increscendo che partire con 3-4 mila abbonati e poi in uno stadio deserto come l'anno scorso. Verissimo, perché negli ultimi due anni insomma è successo sia due anni fa che l'anno scorso che poi al Franchi nelle ultimissime partite, io ricordo Siena proprio a Cenza 3-0 di maggio, c'erano praticamente non so, a occhio 6-700 persone. Sotto i mille, poi si continuava a contare gli abbonati, però era ovvio che più vicino ai 500 che ai mille. E come ha detto il vicepresidente Federico Trani in un'intervista rilasciata al Corriere di Siena prima appunto del match tra Siena e Lucchese e il giorno del match ha detto meglio mille abbonati che però tifano invece di 2-mila che sono muti. Insomma, poi vedremo se crescerà l'affetto. Ieri c'erano 800 paganti, esclusi però i 200 del settore ospite della Lucchese, quindi in totale 2-600 persone. Comunque un'atmosfera certo non quella dei tempi neanche quella della Serie D, però un'atmosfera abbastanza accettabile resa ancora più bella come detto dalla questione di tamburi e megafoni che sono tornati allo stadio. Domenica andando a vedere il futuro insomma della Robur, domenica il Siena gioca già in uno degli stadi più caldi perché l'atmosfera all'arena Garibaldi è sempre molto bella, il Pisa ha tantissimi abbonati e allora andiamo a vedere con la grafica della regia la prossima giornata il secondo turno del girone A di Serie C Gianerminio Arezzo Arzachena Viterbese Piacenza Cuneo Pistoiese Monza Prato Livorno altro derby toscano le prime 4 giocano alle 16.30 Prato Livorno alle 18.30 poi la sera alle 20.30 ci sono Cararese Propriacenza Gavorrano Olbia Lucchese Pontedera altro derby e Pisa Roburziena di nuovo un derby toscano come detto riposa l'Alessandria insomma già un turno interessante perché il riposo dell'Alessandria lo scontro col Pisa poi vedremo cosa farà il Pisa stasera con l'Olbia però Giuseppe già c'è di cui discutere in questa giornata Assolutamente sì io sono curioso perché Pisa me lo ricordo due anni fa l'anno scorso era in Serie B la squadra allenata allora da Gattuso ora c'è Carmine Cautieri è una corazzata ha davvero 22-23 titolari e infatti il presidente del Pisa ha detto che il nuovo regolamento di 5 cambi avvantaggia il Pisa perché loro hanno effettivamente tanti titolari e sono avvantaggiati e ha un allenatore che era 6 anni che allenava in B è sceso proprio per risalire e poi c'è l'Arena Garibaldi è insomma un grande stadio anche se ha dei limiti ha dei problemi di capienza quindi non può superare i 9000 spettatori però insomma sono comunque tanti e io ricordo due anni fa probabilmente la più bella partita del Siena di Azzori a Pisa con tra l'altro tantissimi episodi raccontare il pianto di Mastronunzio con il gol dopo 4 anni il gol di Bastoni insomma l'assedio del Pisa con il gol di Montella sono tutti giocatori che ora non ci sono più probabilmente rimane solo Dario D'Ambrosio però è un altro Siena e speriamo che però il risultato non cambia hai fatto bene a citare quella partita perché poi l'atmosfera fu tra l'altro molto bella anche sugli spalti sia da parte della curva del Pisa che fece una coreografia ricordo veramente molto bella e i tifosi del Siena che comunque risposero bene a quella trasferta d'altra parte erano i primi mesi di nuovo nel calcio professionistico e la regia sta mandando proprio le immagini di quella sfida ringrazio ovviamente Leonardo Vigni in regia per la prontezza con cui lo sta facendo qui vediamo se non sbaglio forse l'azione no non è quella con il gol però manca poco probabilmente è questa esatto il gol di Mastronunzio effettivamente la vista mi pare Mastronunzio l'unica cosa buona che ha fatto quell'anno però effettivamente è stato un bel momento è stato un bel momento assolutamente poi pareggiò se non sbaglio il Pisa nella ripresa con Montella e il Siena che trovò la rete del vantaggio con Bastoni con Bastoni con Bastoni poi purtroppo quella stagione tra l'altro la partita dopo arrivò alle zone di Azzori quindi era già una situazione paradossale poi si capì bene cosa c'era sotto il vuoto societario la crisi eccetera e da lì partirono i problemi però effettivamente se ci pensi bene è una vittoria contro il Pisa dove nessuno ci aveva vinto e io non so se qualcuno è riuscito a fare la stessa cosa questa atmosfera sugli spalti molto bella il gol credo del Pisa questo no non è questo comunque sì ci fu un traversone ricordo un buco dei difensori bianconeri male forse Ficagna e Portanova non ricordo benissimo un Pisa molto aggressivo a inizio ripresa che trova poi poi in contropiede il Siena ha trovato il 2 a 1 sì qui un'incertezza difensiva l'1 a 1 e lì sembra finita anche perché il Pisa poi fece 10 minuti di forcing pazzesco invece in contropiede colpì il Siena poi ci fu l'espulsione di Mannini che troveremo probabilmente da terzino destro tra l'altro come specie tra l'altro lui è già una bandiera a Pisa lui è pisano a Siena non lo possiamo considerare tale lo è diventato anche di fatto perché è al quarto anno a Pisa quindi dovrebbe essere considerato una bandiera il gol di Bastoni il gol di Bastoni e quindi il Pisa ha liberato una casella over che però non dovrebbe occupare ma dovrebbe tenerla per nel corso del campionato insomma la corsa poi sotto la curva proprio di di Simone Bastoni insomma sono già è già storia fa un po' effetto rivedere queste immagini perché sono solo due anni fa però fanno già parte della storia bianconera alla fine questa vittoria da ricordare assolutamente ma il paradosso è che in due anni praticamente da buttare il Siena ha fatto prestazioni di questo genere ma non solo questa due pareggi con la Spal altra partita bellissima a Ferrara sulla Spal ora Lazzari giocava contro il Siena adesso ha segnato in Serie A però insomma questo d'altronde anche il Crotone nell'ultima partita nell'ultimo debutto vincente prima di questo Siena Crotone 5-2 con Mario Beretta il Crotone adesso è in Serie A quindi noi ci speriamo dai alla fine mai dire mai e allora l'augurio è che ovviamente queste immagini possano in qualche modo ripetersi già domenica nel ritorno del derby tra Pisa e Siena all'Arena Garibaldi è davvero tutto oggi per Studio Robur io ringrazio Giuseppe Ingrosso grazie a te e ovviamente l'invito per tutti i nostri telespettatori di continuare a seguire i approfondimenti sportivi ma anche le trasmissioni di Canale 3 grazie a te